Buongiorno a tutti innanzitutto, prima di iniziare io vado sul punto focale di questo convegno, sia il private equity e l'interim management. Però prima di iniziare faccio una domanda a tutti voi. Alzi la mano chi ha lavorato in aziende partecipate da fondi? Diciamo 50%. Questo va solo, spiega subito qual è l'importanza che stanno avendo i fondi in questo momento in tutto il mondo, in Italia e in Europa. Quindi direi che la prima cosa è capire qualche numero sui fondi, in modo tale che vi posso dare un minimo di visione su quella che è l'evoluzione. Allora, la prima cosa è una sintesi, adesso diciamo che trago qualche numero da AIFI, che è l'Associazione Italiana dei Fondi di Investimento, e qualche altro database di cui noi possediamo e abbiamo visione. Quanti sono i fondi in Italia? Diciamo che, non so se lo sapete, ma la domanda che vi pongo è chiara. Sono 280, questo da pitchbook. In realtà alcune altre fonti dicono 320 e possedono 1.577 aziende. In realtà, se inseriamo magari qualche family office che è sfuggito alla prima selezione, diciamo che siamo più vicini ai 2.000 aziende possedute da fondi. Quindi diciamo che il fatto che voi, il 50% di questo convegno, dei presenti, abbia lavorato per i fondi, la dice lunga. Gli investimenti durante il 2023 sono scesi di molto, non tanto in numero di operazioni quanto in valore. Diciamo che il mercato nel complesso dell'M&A è sceso di circa il 40%. I fondi di investimento non sono scesi tanto quanto il mercato. Secondo i nostri criteri e i nostri numeri hanno continuato ad investire. E questo più 2% nel numero delle operazioni lo dice. Però diciamo che c'è un calo e questo calo è necessariamente ed essenzialmente dovuto oltre ai dubbi e alle incertezze di tipo internazionale, soprattutto ai tassi di interesse, che fanno sì che sostanzialmente i rendimenti attesi e i valori che vengono espressi nelle valutazioni dei fondi abbiano una grossa, diciamo, drawback sul tasso di interesse. I disinvestimenti sono stati abbastanza in linea, ma forse un po' di più, come numero di operazioni. Diciamo che questi sono i numeri che vi danno un po' il quadro di quello che è la situazione. Quindi, sempre presenti, molto presenti, crescono addirittura in un momento in cui il mercato scende dalle M&A. Ovviamente i valori sono scesi, probabilmente anche perché sono andati molto su aziende piccole. Cioè i fondi in questo momento, vi sapete che ci sono decine e decine di aggregazioni, intendo per aggregazioni quei progetti in cui vengono sostanzialmente messi insieme più aziende di uno stesso settore con la speranza di fare sinergia. Speranza, lo dico, che non è certezza, perché abbiamo visto che ci sono a volte anche delle situazioni non proprio di successo. Ecco, i fondi investono prevalentemente in settori che qui sono indicati. vedete che ICT rappresenta il 31%, quindi pesante, beni e servizi industriali, cioè praticamente parliamo di manufacturing, dove l'Italia è, diciamo, preponderante, medicale molto importante, e poi energia e servizi. E adesso veniamo un po' a come entrano in gioco i fondi. Cioè i fondi, i famosi, mettiamo 300 fondi, si segmentano a loro volta. In fondi che entrano nel venture, in fondi che fanno growth, in fondi che fanno MBO, in fondi che fanno aggregazioni, in fondi che fanno turnaround, nelle varie fasi della vita aziendale. Quindi adesso noi andremo a capire, a vedere, a discutere, quali sono le, diciamo, opportunità per i manager, interim, nelle varie fasi. Però non vado a parlare del venture, ma mi fisserò principalmente sul growth e sul turnaround. Quindi è chiaro che venture poi ha avuto una certa rilevanza, una certa importanza negli ultimi tre anni, un po' meno negli ultimi tempi, però, diciamo, anche nel venture ci sono delle opportunità, come avrò modo di, magari, spiegare un po' meglio, per gli interim manager. Quindi andiamo a guardare le opportunità per gli interim nella fase, cioè nei progetti di expansion, o per meglio dire capital for expansion, cioè capitale inserito da fondi per l'espansione. Diciamo che il processo, diciamo anche se è più complicato, ma ho voluto esemplificarlo in queste fasi che andremo a vedere, è capire come si inserisce l'interim manager, come può inserirsi l'interim manager nell'ambito di queste fasi del processo, di uno dei processi in cui i fondi lavorano, che è il growth. Allora, l'operating partner. Cos'è l'operating partner? Una figura piuttosto nuova, che forse voi, non tutti avrete sentito parlare. L'operating partner è un manager di competenza settoriale notevole, meglio se supportata da esperienze anche di tipo, diciamo, partecipativo nella confindustria, o comunque hanno avuto a che fare anche con associazioni, che possono aiutare i fondi in queste prime fasi, e cioè il target search, l'evaluation e le due diligence. È chiaro che, voi sapete che le acquisizioni richiedono diverse operazioni di pre-closing, che sono le diligence. Le diligence sono 5 o 6, continuano a aumentare, ci sono quelle amministrative, legali, fiscali, ambientali, e poi quelle di business. Quelle di business, ovviamente, le vengono date a grossi gruppi di consulenziali e vengono sparate delle cifre a volte importanti. Una business diligence può costare anche qualcosa vicino a 100.000 euro oggi, quindi parliamo di un numero, qualcuno dice di più, ma mi tengo conservativo. Quindi, l'operating partner è colui che schiaccandoci al fondo porta quella competenza di settore che gli consente proprio di aiutare il fondo nella target search, cioè a fronte di una potenziale acquisizione dice guarda che c'è quest'altra azienda che io conosco benissimo che va molto meglio di quella che tu vorresti comprare, no? Quindi questo è proprio l'esempio, un esempio classico di cooperazione tra il manager e il fondo. La seconda è la valutazione. Spesso i fondi prendono delle topiche diciamo molto pesanti, no? Chiaro che prendono le precauzioni con le diligence, però il manager che conosce il settore, che ci ha lavorato magari 20 anni, che conosce tutti i fornitori, clienti, concorrenti, ha una competenza che è ineguagliabile, che nessuna McKinsey, Roland Berger, LTE non potrà mai competere da un punto di vista della percezione del business. Quindi, e siccome i fondi lo stanno capendo, quindi dicono ma perché cara team non mi procuri un operating partner che mi aiuti a questa fase di, a parte la target perché spesso i fondi hanno un ufficio interno che fa sì che in realtà la target se la identificano loro, no? Però magari hanno identificato quella sbagliata oppure quella che ha dei drawback che non sono diciamo risolvibili. Quindi l'evaluation è molto importante. Poi i fondi dicono caro operating partner perché non rimani con me e mi aiuti nella diligence perché quando si fa la diligence si avrò a scoprire certi determinati elementi come macchinari magazzini processi e altro tu mi potresti aiutare a capire come se sono risolvibili in futuro e se diciamo hanno un'influenza sulla cosa più importante che un fondo ha in testa che è il prezzo. Ok? Quindi l'operate in partner potrebbe essere di grosso anzi lo è perché ne abbiamo in questo momento di operating partners che lavorano per i fondi. Tra l'altro l'operate in partner e vado un po' più a fondo ancora non è un lavoro full time è un lavoro molto part time proprio indicato a un interim manager che magari fa della consulenza fa altre cose addirittura se non ha conflitti di interesse potrebbe anche essere un manager che ha un incarico permanente che dice se non sono in conflitto cosa peraltro non facile perché a volte lo è quindi si deve astenere da partecipare però può dedicare una parte del proprio tempo a supportare il fondo in queste tre fasi tre fasi che poi scaturiscono normalmente in quello che potrebbe essere una una o un managing director ma qui mi fermo perché potrebbe essere che il fondo entra in maggioranza e c'è già il managing director oppure il titolare che fa il managing director l'ex titolare che rimane magari in percentuale di minoranza può fare o anche del tutto esce come azionista e diventa manager cosa non facile come sapete tutti però diciamo il managing director ci può essere come non ci può essere l'operating partner molto più propriamente entra come board member cioè dopo aver fatto tutta questa trafila di valutazioni iniziale normalmente se diciamo c'è anche la chimica con gli investment manager dei fondi il fondo può dire senti rimani nel consiglio di amministrazione hai partecipato tutta questa trafila perché non resti e fai il board member non è detto che faccio l'amministratore delegato perché l'amministratore delegato potrebbe essere già stato o era dentro nell'azienda o fa parte degli accordi di acquisizione che vengono sviluppati poi c'è il styling and closing ok ma andiamo sul sul dopo no qual è la cosa più diciamo più immediata che il fondo richiede già nella fase di diligence può aver capito che l'azienda non ha un report che gli dà stato patrimoniale e conto profitti e perdite dopo sei giorni calendario magari è 90 giorni calendario quindi c'è necessità di inserire un CFO che possa far cambiare diciamo il meccanismo di reporting ma soprattutto oltre che per reporting anche per prendere le decisioni quindi tutti gli elementi che sono come sapete bene necessari per gestire un'azienda e diciamo valutare decisioni in termini di profittabilità quindi il CFO spesso viene o c'è già ma poi non va bene oppure non c'è proprio e viene inserito da zero ok allora qui c'è un discorso sarebbe lungo da fare i fondi che lavorano in un modo molto brutale direi è l'aggettivo giusto cioè non riconoscono retainer a nessuno vanno solo a successo ok quindi noi con i fondi abbiamo questo tema di lavorare essenzialmente in un modo diciamo molto garibaldino però noi chiediamo sempre l'esclusiva cioè noi diciamo caro fondo tu mi chiedi un CFO mi devi dare un mese di esclusiva assoluta perché cosa succede i fondi hanno persone di un certo valore che hanno conoscenze e va a finire che sentono il parente il cugino l'ex collega di Londra e per cui si possono creare delle veramente delle problematiche di sovrapposizione che sono un disastro perché ci dobbiamo trovare magari a toccare lo stesso manager con due canali diversi che non si deve non si può fare quindi il CFO è come dico una delle funzioni principali nel post-closing poi naturalmente i fondi anche perché via via che sta andando avanti questo processo di acquisizione da parte di fondi di sempre sempre più imprese vi dicevo prima che ci sono in questo momento direi una ventina di aggregazioni che aggregano 10 15 5 aziende in uno stesso gruppo c'è il famoso ed on ora il ed on è un tema molto importante per i fondi perché ovviamente e qui l'interim manager è proprio la funzione ideale direi perché perché naturalmente la coperta è quella se tu hai un'azienda caro fondo dove hai i manager contati non è che puoi dedicare uno dei manager a fare l'integrazione di una società in Spagna piuttosto che nel sud Italia piuttosto che in altri paesi e quindi cosa succede che hanno bisogno di un integration manager quindi l'integration manager è un manager anche qui con esperienza settoriale quindi deve essere un plug-in nel momento in cui entra deve subito essere capace di non deve imparare ma deve dare come diceva prima Domenico e che ha un compito di integrazione in senso lato quindi diciamo a parte i sistemi informativi di sistemi di amministrativi di reporting ma anche di business acquisti logistica e via dicendo e è un incarico che sicuramente non dura più di un anno diciamo che tipicamente può essere sei nove mesi magari con un proseguio nei mesi successivi dopo che è stata fatta l'integrazione però la coperta che ha l'azienda partecipata dal fondo è quella se io sposto un manager da una parte e lo metto dall'altra mi scopro la funzione quindi mi ritrovo in un circolo vizioso e quindi l'interim manager in questo è forse la funzione più diciamo azzeccata per un fondo poi c'è l'improvement si scopre che le cose non vanno come si pensava che ci sono che c'è magari il vecchio proprietario che è rimasto a fare direttore di produzione che si mette la tuta va giù a girare il bullone che forse a un certo punto prima non si riesce a contenere diciamo gli elementi di efficienza che si pensavano e quindi chiedono un super esperto di operation più di operation che di vendite questo lo diceva anche domenico prima quindi sugli operation c'è effettivamente una certa importante necessità da parte dei fondi di ottimizzare gli stabilimenti probabilmente perché le funzioni della società che hanno acquisito non erano sufficienti o comunque erano rimasti un po' indietro rispetto anche ai metodi e alle diciamo tecnologie che magari il vecchio imprenditore o chi per esso aveva nell'azienda e poi rimetto il managing director perché il managing director sapete che un fondo quando entra entra per uscire ok si parla di tre anni cinque anni io direi più sui cinque sette perché alla fine poi bisogna vedere i cicli economici il tasso di interesse come funziona però diciamo che se abbiamo cinque anni se il primo managing director era non so uno dei figli dell'imprenditore e non ha performato o è in difficoltà spesso prima dell'exit viene chiesto un managing director oppure se il managing director era il vecchio imprenditore che dopo cinque anni diventa ancora più vecchio è chiaro che per uscire il fondo deve avere un manager un po' più giovane ok non parlo di un quarantenne io dico parlo di un cinquantacinque massimo sessant'anni che possa entrare perché il nuovo acquirente si ritrovi una funzione coperta fondamentale per l'azienda quindi questa è la funzione ulteriore che si può venire ad essere come dire coperta proprio per essere funzionalmente adatta a far uscire il fondo dall'investimento quindi io direi che ne abbiamo viste diverse di funzioni cioè abbiamo molte funzioni molte diciamo tipologie molte opportunità di inserimento e sicuramente dato il numero elevato di fondi dato il numero elevato di aziende il testimone di quanto dico è il fatto che il 50% di voi ha lavorato con i fondi direi che passo a un altro tipo di processo perché questo è un processo virtuoso dove tutte le cose pur in difficoltà vanno bene si esce il fondo fa il suo rendimento il manager è contento sono contenti magari prendono anche un un exit ratchet che vuol dire un diciamo bonus sull'uscita però ci sono anche purtroppo le situazioni dove sono meno i risultati sono meno eclatanti e parlo cioè del restructuring restructuring che naturalmente nasce essenzialmente dal che cosa dal fatto che o l'azienda non performa oppure c'è molto più parlavo prima al caffè con qualcuno di voi c'è un investimento sbagliato cioè il fondo entra vuole crescere cosa fa cresce fa un investimento l'investimento non va o perlomeno sembrava che andasse poi per varie ragioni non va il fondo si è indebitato i tassi di interesse aumentano e quindi ci sono poi da restituire diciamo le rate sul prestito e quindi si entra in una fase diciamo viziosa e di difficoltà quindi il primo punto l'azienda non va per ragioni di investimenti sbagliati o di acquisizioni anche sbagliate ci possono anche essere queste situazioni un po' meno diciamo difficoltà di governance cioè tra il vecchio proprietario e il fondo cosa che naturalmente esistono ci sono ve lo sapete tutti però alla fine sono risolvibili che poi il fondo ha sempre da un punto di vista legale e diciamo finanziario la possibilità di superare questo aspetto vediamo quelle potrebbero essere diciamo le funzioni che si possono diciamo determinare in una fase di ristrutturazione e parto con e poi mi faccio aiutare anche da Federico Costa che dal punto di vista della diciamo competenza sul restructuring è diciamo la nostra punta di diamante quindi utilizzerò anche lui sul mi farmi aiutare nel definire le funzioni sicuramente la prima è il CFO lo voglio l'ho voluto mettere perché i CFO non sono tutti uguali noi abbiamo circa 3.000 curriculum al nostro interno 40% sono CFO 1.200 CFO sono totalmente segmentabili in varie funzioni c'è il CFO della multinazionale che lavora con il cash pooling che non ha problemi con le banche c'è il CFO che è capace di lavorare per commessa quello che è capace di lavorare invece su aziende diciamo di un di tipo diciamo per per magazzino cioè ci sono i CFO che sono esperti di diciamo capaci di gestire la tesoreria in maniera aggressiva oppure quelli appunto quelli che lavorano con il cash pooling delle multinazionali non hanno non perché non siano capaci ma non ci hanno proprio lavorato mai quindi non sono in grado di magari di gestire la tesoreria ovvero tra parentesi il circolante e il capex in modo molto molto aggressivo quindi cosa succede che qualche volta i fondi hanno il CFO bravo che fa tutto quello che deve fare ma in una situazione di ristrettezza o di crisi dice questo non è non è capace non ha avuto esperienza qui ci vuole un CFO col coltello tra i denti che vada a risparmiare a guardare a gestire la diciamo la cassa in modo molto molto più diciamo consapevole aggressivo rispetto a un CFO che non è abituato quindi quando si parlava delle varie funzioni che sono diciamo richieste qualche volta ci dicono abbiamo un CFO che non è in grado di diciamo lavorare in una situazione di crisi datecene uno magari senza far fuori il CFO che esiste ma magari affiancandolo quindi per superare un periodo CFO Chief Restraction Officer io lascerei un attimo a Federico dire qualcosa se vuoi venire grazie Cesare buongiorno a tutti Cesare mi passa la parola sul quando si arriva a parlare del CRO il CRO per me è una figura fondamentale perché vedete che sta al centro di questo snodo le aziende vanno in crisi vanno in crisi finanziaria io sempre le ho viste andare in crisi finanziaria perché hanno problemi industriali non risolti e non affrontati da tempo quindi l'azienda è rimasta bloccata paralizzata mangiata dai suoi problemi quindi il CRO la domanda vera che noi facciamo un CRO quando entri in azienda è in tempi brevi devi dirci come cambiamo l'azienda e quello è il cuore dell'intervento il cuore del piano e condiziona le frecce che vengono dopo perché se hai una visione di come cambiare l'azienda come tirarla fuori dai problemi affronti il difficile percorso della ristrutturazione del debito ma ne esci perché dimostri a tutti che è loro interesse seguirti nel progetto e sostenere questo cambiamento dell'azienda se non hai la visione di come cambiare l'azienda per uscire da difficoltà non resta che avviarti sul cammino della liquidazione per cui vediamo che il ruolo ho spiacciato un tasto il ruolo del CRO nel eccoci il ruolo nel CRO per affrontare dall'inizio la crisi aziendale è il ruolo fondamentale fare le scelte sbagliate in questa fase pregiudica le decisioni successive è una posizione di grande responsabilità che deve mettere insieme competenze di ristrutturazione con competenze di settore questo per me è la figura chiave non so se vuoi andare avanti vado avanti io beh poi andando avanti se le azioni di cambiamento aziendale di ristrutturazione sono convincenti credibili sostenute condivise da tutti gli attori dal sindacato dai creditori dagli esperti e dagli organi della procedura eccetera si va avanti nella ristrutturazione del debito ed ecco che a fianco al ruolo del CRO c'è il ruolo del CFO il processo di ristrutturazione del debito mette una pressione enorme sulla struttura amministrativa perché di colpo degli esterni gli esperti il commissario eccetera diventano ossessivi nel chiedere chiusure contabili previsioni di cassa breve perché vogliono essere sicuri che tu non stai mangiando i soldi dei creditori informazioni di contabilità analitica di controllo di gestione che sono la base per costruire il piano perché costruisce il piano vuole marginalità per clienti marginalità per prodotti marginalità per linea interventi costi di ristruttura no è veramente uno stress enorme per le strutture amministrative per cui il ruolo del CFO diventa fondamentale in questa fase esecutiva e poi arrivi nell'esecuzione del piano dove ancora in salita ma potrebbe essere in discesa perché l'azienda è tornata in bonus perché ha chiuso un accordo ha fatto un piano su quel piano ha riscadenziato il debito su come dire l'ha trasformato come un mutuo per cinque anni con dei flussi che sono coerenti con quello che ti aspetti quindi sei tornato in bonus quindi torna a essere una gestione di un'azienda diciamo sostanzialmente in via d'uscita dalle difficoltà quindi diciamo dove ovviamente l'aspetto dell'implementazione del fare le cose che hai detto diventa fondamentale quindi mi piace vedere le stesse persone che poi si occupano dell'esecuzione del piano perché è facile fare un piano poi dire lo realizza un altro quindi c'è una continuità e l'ultimo caso invece ahimè sono le situazioni in cui torno all'inizio non si è visto il percorso di cambiamento per risolvere i problemi dove non resta che invece affidarsi a manager specifici col ruolo di liquidatore che sembra un ruolo residuale ma un ruolo importantissimo perché tra una liquidazione gestita correttamente e una liquidazione invece gestita in modo meno performante ci può essere enormi differenze differenze per i creditori ma anche differenze di esito per i soci per i consigli di amministrazione eccetera per cui anche la figura del liquidatore molto specifica e specialistica può rivelarsi una figura importante strategica grazie riassumendo però qualche ulteriore commento i fondi quando hanno una problematica che porta alla ristrutturazione pesante o addirittura a liquidazione è formato come sapete i fondi hanno gli investment manager quindi normalmente la maggioranza del consiglio di amministrazione è diciamo di nomina del fondo quando ci sono queste situazioni il fondo tende a diciamo dare al nominare un liquidatore un amministratore unico sull'azienda per far uscire i consiglieri quindi naturalmente nella situazione che sta in basso cioè quella della liquidazione qui occorrono dei manager che io chiamo quelli inossidabili che non si spostano neanche se gli tagliano le gomme dalla macchina che possono tranquillamente sostenere la pressione di azionisti banche creditori personali e quant'altro quindi andiamo su una figura che diciamo è abbastanza diciamo tipica e non ce ne sono poi così così tanti perché non c'è molta gente in un multi manager che vogliono fare quel lavoro però diciamo che può essere un'esigenza per fortuna è limitata nel nel numero ma era giusto per dare un inciso su questo tipo di figura quindi riassumendo sono arrivato alla fine io ho fatto la mia mezz'ora di speech sui fondi e quali sono le varie funzioni di cui possono avere bisogno chiaramente il numero di fondi aumenta il numero di aziende possedute di fondi aumenta e continuerà ad aumentare anche per una ragione molto sociale se volete le aziende sono sempre possedute da create da persone che negli anni 60 70 hanno iniziato sviluppato l'azienda sono sempre più anziani il numero di figli che riesce a prendere il comando dal padre o dai fratelli non so cosa ne pensate voi ma io dico che non è più del 15% so se siete d'accordo vedo tanti sì quindi è giocoforza che questi imprenditori debbano passare prima o poi la mano quindi l'incidenza di fondi aumenterà sempre di più a mio parere anche perché i soldi ai fondi arrivano i fondi devono investire perché se no licenziano l'investment manager che non investe quindi è in dubbio che ci sarà sempre o più una proponderanza dei fondi e delle funzioni che vi ho spiegato in questa breve diciamo presentazione grazie se avete domande vorrei aggiungere una cosa Cesare grazie vorrei aggiungere una raccomandazione che vi ho parlato dei manager in situazioni di crisi la situazione di crisi è appannaggio esclusivo dei temporary manager perché è praticamente impossibile trovare dei manager che lasciano aziende stabili con multinazionali aziende con fringe benefit con percorsi sicuri eccetera per andarsi a mettere in situazioni di incertezza quindi io raccomando sempre i temporary manager che vogliono aumentare la loro impiegabilità la loro interesse sul mercato eccetera di aggiungere alla loro esperienza cercare di aggiungere l'esperienza di gestione della crisi perché questo aumenta enormemente la loro impiegabilità grazie grazie